Quest'anno è stato l'anno dove abbiamo organizzato una manifestazione e abbiamo superato il numero del 700, 700 atleti, 700 ragazzini, 700 persone che hanno voglia e avevano voglia di ritornare e San Terpito a Mare, una frazione piccolina dove un percorso che somiglia molto a un'arena dove ci hanno fatto i complimenti una buona parte di atleti e accompagnatori e ci chiedono di riconfermare per il prossimo anno. Stefano Fidani non fa nulla da solo e non farà mai nulla da solo perché senza i collaboratori, senza Matteo Romanelli, i fratelli Romanelli che ci hanno appoggiato economicamente l'amministrazione comunale, Loris Pezzoli, fare i nomi è una cosa semplice e allo stesso tempo fuori dal normale perché noi abbiamo bisogno di loro e senza di loro non possiamo fare nulla, io senza di loro non posso fare nulla.